Tutte le sere ce n'è una, anche ieri l'altro spaccavano le bottiglie, si davano dietro tentando di ferirsi, ieri sera la stessa cosa con dei bastoni. Non li attraverso più questi giardini, quindi effettivamente è veramente veramente drammatico. Un tentato omicidio e poi nei giorni successivi risse e aggressioni con coltelli, bottigliate, scene da saloon finite anche con feriti. Teatro dei violenti episodi, i giardini del Porcinai, aree a pochi metri dalla stazione di Arezzo che ciclicamente torna sotto i riflettori della cronaca per episodi di criminalità e degrado. Se non sono di sera sono nel primo pomeriggio, varia solo l'orario diciamo, ma le risse rimangono sempre all'ordine del giorno. Un escalation che accresce giorno dopo giorno il senso di insicurezza di cittadini e commercianti. Ho paura per chi mi sta intorno, ho paura per la mia moglie, ho paura per il figliolo, ho paura per la mia mamma. Anche la mia dipendente ha paura la signorina a entrare la mattina alle 4 perché trova sempre alcolizzati al giro. Non si lavora tranquilli e la gente è un po' turbata, spaventata come tutti giustamente. Le associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio dopo aver raccolto le stanze di chi questa zona la vive quotidianamente hanno scritto alla prefetta Maddalena De Luca e al sindaco Alessandro Ghinelli per chiedere un nuovo incontro. Più pulizia, più illuminazione, meno bivacco nei giardini. Attesa adesso anche la riqualificazione dell'aria come annunciato dall'amministrazione comunale di Arezzo. È il biglietto da visita della città perché chi proviene dalla stazione non può essere costretto tutti i giorni a assistere a queste scene o comunque ha un degrado anche strutturale.